salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avrete sicuramente letto dal titolo oggi voglio parlare di razzismo allora premetto che parlerò del razzismo in maniera generale quindi sia con le persone magari di colore o comunque persone di altre etnie sia con il razzismo che c'è nei confronti delle persone del sud oppure anche le persone del sud che hanno il razzismo per quelli del nord in maniera generale allora io sono romagnolo per chi non lo sa e sono cresciuto il 99% dei miei amici erano tutti del sud Napoli, Calabria, Sicilia tutti, tutti del sud io non ho mai mai avuto problemi con questi miei amici sì, chiaramente si litigava ma poi si faceva pace ma non ho mai avuto problemi gravi mai magari sarà stato anche per il mio carattere per il loro, non te lo so dire e vi voglio fare una domanda se voi vedete una persona di colore qual è la prima cosa che pensate o che vorreste dirgli? vorreste dargli contro? e soprattutto se gli date contro perché? a voi nelle vostre tasche cosa vi entra dando contro quella persona lì? se vi entrano dei soldi ditemi ditemi cosa volete fare cosa volete dirgli ma non credo vi entri niente in tasca quindi che senso ha? perché dovete rompere le palle a una persona? perché è di un altro colore? ah! forse ho capito perché lo fate perché facendo una roba del genere voi vi sentite meglio sì? ed è una cosa una delle cose più brutte e più inutili che voi possiate fare dare contro un'altra persona solamente per sentirvi meglio vuol dire che la vostra vita è triste è molto molto triste come vi ho detto ragazzi sono cresciuto con persone del sud e non ho mai avuto problemi ma anche quando dovevo stare o parlare con le persone di colore e fidatevi ne ho conosciute tante perché nella scuola dove andavo ero io e un altro italiani erano tutti stranieri o marocchini o comunque africani erano tutti stranieri tutti non ho mai avuto nessun problema mai io non ho mai pensato a lui è nero allora gli devo dare contro lui è cinese allora gli devo dare contro non ho mai pensato questa cosa semplicemente perché avendo la mia vita già incasinata al 100% perché lo è stata sempre da quando ero ragazzino fino adesso e lo continuo ad essere non ho mai pensato a devo dargli contro perché pensavo ai cazzi miei e facendo questa cosa vieni su con una mentalità secondo me giusta voi dovete imparare a farvi cazzi vostri cosa ve ne frega a voi se lui è di colore cosa ve ne frega a voi se lui è cinese cosa ve ne frega a voi se lui è napoletano se lui è di milano che cazzo ve ne frega a voi basta questo è vivete la vostra vita lui viverà la sua probabilmente non vi incrocerete neanche più attenzione non voglio far passare il messaggio che per me sono tutti buoni tutti belli attenzione no perché ci sono tante persone del sud che mi stanno sui coglioni non faccio nomi perché sono persone che fanno video su youtube o comunque fanno cose sul web ci sono tante persone che mi stanno sul cazzo che non riesco a sopportare ma chiaramente non voglio avere niente a che fare con quelle persone e non li guardo neanche non li guardo neanche perché so che mi fanno irritare mi stanno sui coglioni capito? quindi se c'è una persona che vi dà fastidio non la guardate non state con lui girate da un'altra strada meglio la evitate meglio è per voi e meglio è per lui e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito a condividere il video a commentare a lasciare like e iscrivervi se non lo siete e alla prossima grazie a tutti